Il mio ingresso nell'arte è abbastanza singolare, perché tutta l'adolescenza, nonostante io già frequentassi il liceo artistico, l'ho passata in un altro settore, totalmente, nel settore dello sport. Facevo parte già della squadra nazionale, di uno sport che si chiama Lotta Stile Libero, al quale ero stato introdotto da mio padre, che è un allenatore storico di questa disciplina. Siccome i risultati erano importanti, la mia vita probabilmente pensavo avesse preso questa piega definitiva. Cosa che invece non è successa, perché poi a un certo punto ho deciso di dare un taglionetto a questa esperienza e cominciare un'altra, che è stata quella dell'arte. Probabilmente l'eredità che mi sono portato dietro da questa esperienza sportiva è stato il fatto che ho imparato ad affrontare qualunque cosa, quindi anche l'arte, come una disciplina abbastanza ferrea, una pratica che va affrontata con allenamento, tra virgolette, con impegno quotidianamente. Quindi lontano dal concetto romantico dell'ispirazione, ma appunto un lavoro impegnativo che prevede dei passaggi lunghi, delle elaborazioni che non sono estemporanee. Sono molto stimolato dalla città in cui vivo, perché io vivo a Palermo, è una città che è piena di contrasti, una città che è un contrasto vivente. Quindi vivendo in una città del genere, nonostante non ho mai riportato la città dove vivo attraverso il folklore o questa cosa, e qui credo che ho assimilato proprio questo forte senso del contrasto che sviluppo nel mio lavoro. Io adoro andare nei mercati, ce n'è uno in particolare che è il mercato di Palermo, che io considero personalmente uno dei posti più stimolanti e creativi del mondo, perché ci sono questi rigattieri che non hanno una linea specifica in quello che vendono. hanno degli oggetti che mettono lì a poco prezzo e quindi questo ti crea un senso di sorpresa ogni volta che tu vai a spulciare, a vedere queste cose qui, e di imprevedibilità che io adoro. E quindi durante questi giri di mercati spesso compro delle cose, compro degli oggetti. Nel mio processo creativo una fase molto importante è quella appunto dell'osservazione, di guardarmi attorno, di captare delle immagini che suscitano il mio interesse e cominciare intanto a incamerarle, a conservarle con un'attitudine quasi da collezionista. Possono essere delle immagini bidimensionali, ma possono essere anche degli oggetti, perché mi piace molto che le cose su cui intervengo abbiano già una loro storia, un loro vissuto. In un secondo tempo puoi lasciare che questi input, che queste immagini sedimentino nella mia testa e poi attuare una manipolazione, una trasformazione. Un processo che non è facilmente quantificabile in termini temporali. All'inizio, per esempio, dipingevo su delle stoffe, ed erano delle stoffe che io compravo nei mercati, erano delle stoffe che avevano quindi già una vita, erano delle stoffe usate. Potevano essere tendaggi, tappezzerie, che in qualche modo già mi portavano dietro una storia da raccontare, sulla quale io intervenivo, entravo dentro queste trame geometriche delle cose, e quindi avevo la possibilità di dare nuova vita a questi oggetti e nello stesso tempo dirottare la loro storia, il loro significato verso una nuova vita, creando una nuova genesi dell'oggetto. Io produco delle immagini obiettivamente gradevoli, che sono gradevoli per l'accostamento di colori, per la scelta, per la composizione. In qualche modo io attraggo l'osservatore attraverso questi oggetti, ma io attraggo in una sorta di trappola, che è il contrasto proprio dell'opera. Cioè, a volte all'interno di queste composizioni c'è un significato inquietante, che può fare riflettere su temi anche abbastanza disorientanti, fastidiosi, spinosi. E quindi questo è il contrasto più evidente. Il mio intervento fondamentalmente è quello di creare questo switch, questo momento di cortocircuito, che ti dirotta l'immagine verso significati altri. Quindi creare una sorta di rebus. Una sorta di rebus però senza una soluzione definitiva. La soluzione definitiva è quella che ogni osservatore poi mettendoci dentro le proprie esperienze, la propria sensibilità crea in maniera personale. Grazie. 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 Grazie.